e si è proprio così come risparmiare sul canone di abbonamento sky come te lo spiego in questo video il tecnico digitale te lo spiega adesso e ciao amici benvenuti in questo nuovo video oggi vi spiego come risparmiare con l'abbonamento di sky tutti mi dicono andrea io pago un sacco di sky io ho questi abbonamenti o questi pacchetti o questo di qua di là ma in tanti anzi nessuno vi dicono come risparmiare oggi ve lo dico io prima cosa da fare iscriverti al canale lasciare un like al video commenti mi raccomando commenti perché voglio sapere le vostre informazioni e se avete problemi mi potete contattare qui sotto al link in descrizione dove c'è anche il mio whatsapp e possiamo chattare oggi vi spiego come risparmiare sul vostro abbonamento prima cosa da fare è dovete andare a vedere se il vostro decoder è una cosa così questo è un vecchio mysky o se avete quelli grigi addirittura quelli bianchi i primi hd di una volta il vostro contratto è un contratto vecchio perché questo perché voi siete dei vecchi abbonati dovete prima di tutto aggiornarvi perché perché questo è un decoder vecchio un decoder mysky che fra un po andrà via di produzione e quindi voi dovete avere il nuovo skyq o skyq black o skyq platinum ci sono delle offerte in questo periodo e soprattutto una volta avere aderito al allo skyq o allo skyq platinum avrete degli sconti cioè passerete al nuovo listino al nuovo listino smart perché vi dico questo perché voi con questi tipi di tecnologia questi tipi di decoder avete ancora il vecchio listino di sky quindi voi andate a pagare proprio il vecchio listino e quindi dovete aggiornare prima di tutto il vostro decoder ci sarà un rinnovo ovviamente del contratto che con queste sono le clausole del contratto e in più potrete accedere a uno sconto cioè andare al nuovo listino smart e vedrete che il vostro abbonamento sarà sarà molto molto di meno quindi ricapitoliamo se avete un vecchio abbonamento se avete un vecchio decoder vecchio mysky un vecchio hd prima cosa da fare è contattarmi perché vediamo vi controllo il vostro abbonamento e vi dico quello che possiamo fare perché non mi so dire qui i prezzi scondo 10 20 30 40 50 vi sto dando delle opportunità controlliamo il vostro abbonamento vediamo che tipo di offerta dedicata a voi abbiamo e dopo scegliete tranquillamente il vostro tecnico digitale qui se non vi risponderò io vi risponderà una mia collega non c'è problema vediamo il vostro abbonamento se possiamo fare degli sconti dedicati possiamo fare adeguamente e possiamo fare tanto tanto sconto quindi ve l'ho detto se avete un vecchio abbonamento o vedete un vecchio decoder e vedete che pagate tanto qui sotto ci sono il link in descrizione potete risparmiare potete passare al nuovo listino e in più avere il nuovo decoder a pochi euro e una nuova tecnologia all'avanguardia con tutti i controlli comando vocale 4k registrazioni e on demand se ancora non l'hai visto ti lascio ti invito a vedere il mio canale dove spiego anche come funziona lo sky q con così potrai vedere tutto il funzionamento e potrai contattarmi direttamente per vedere tutte le altre offerte di sky quindi subito lascia qui sotto il link scrivimi manda un whatsapp e ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti da andrea lanciotti il vostro tecnico digitale ciao